Complimenti per il gol, fanno a protestato per una presunta posizione di fuorigioco? No, non penso, dopo andrò a rivederla, ma non penso, parto molto da dietro, però va bene. Così, a livello di commento? Ma ci sta chi protestano, va bene. Continua questo campo basso a segnare con i centrocampisti tanto, questo è un dato di fatto rilevante. Eh sì, noi lavoriamo tanto su questo aspetto, sugli inserimenti, soprattutto delle mezze ale, e anche dei quinti, quindi ci sta, è un lavoro che facciamo durante la settimana, quindi lo portiamo ogni domenica. Un pareggio prezioso, ma poi nel secondo tempo cosa è successo quando obiettivamente siete stati scarsamente pericolosi? Eh, guarda, dicevo prima a un collega tuo che magari il primo tempo la potevamo chiudere, tra virgolette, perché potevamo fare il secondo gol, c'erano gli spazi e ci stavano le occasioni per farlo. Non siamo riusciti, poi il secondo tempo penso loro sono stati bravi a prendere le seconde palle, però va bene, ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima partita. È un punto pesante, visto che vi consente di allungare sulla Samp, però Pergolizzi ha detto che bisogna dare continuità. È pesante se diamo continuità, questo è quello che ha detto anche a voi a fine partita, crediamo. Sempre bisogna darle continuità al lavoro, sempre ci sono cose da migliorare pure. Magari sì, noi pensavamo sì, vinci questa partita, poi vedi gli altri risultati che hanno perso, quindi vai a lunghi le distanze, ma magari tu vincendo loro vincevano pure, quindi il pareggio questo è andato così, prendiamo questo punto, da martedì iniziamo a lavorare, pensiamo alla prossima partita e basta. Allora, quarto o quinto gol? Perché c'è questa disputa sul quinto gol di Senigallia. Di chi è questo quinto gol di Senigallia? Va bene. Tuo o Diabonchelet? Vabbè, io ho calciato in porta, la palla entrava, lui la tocca, io sempre le dico a Maddiche 50-50, non lo so alla fine a chi le hanno dato questo gol, ma non mi interessa, l'importante è che vinciamo e le squadre funzionano bene, io cerco di dare il contributo e basta. Ma tu quanti ne conti? Io ho quattro me metto.